Ben ritrovati con lo spazio informativo del Tg Veneziano. Torniamo sull'omicidio di Ivano Gritti, il pregiudicato veneziano ucciso da Ciro Esposito con un colpo di pistola. Gli investigatori non credono alla versione data da Esposito che ha detto durante l'interrogatorio di aver sparato solo per difendersi, senza sapere che dietro a quella porta c'era effettivamente l'amico Gritti. Molto probabilmente ha invece fatto fuoco perché conosceva il lato violento della vittima e da qui l'ipotesi che i due avessero anche litigato prima. Due le piste che si stanno seguendo per individuare il movente, o una questione di soldi o una questione di donne. È stato anche sentito l'uomo che quella notte era con la vittima. Si tratta di un veneziano che per il momento però non risulta essere indagato nella vicenda. Forte sospetto degli inquirenti è quello che i due centrassero qualcosa con i tre colpi messi a segno ai danni di due supermercati della Copp e poi ad un altro invece un punto Crai. Tre rapine con un bottino totale di poco più di 6.000 euro. Per ora il pubblico ministero Patrizia Ciccarese sta concentrando l'attenzione sul delitto. Con una comunicazione il comune di Venezia fa sapere che anche negli sportelli anagrafe di Burano, di Pellestrina e di Murano si potrà richiedere la CIE, ossia la carta d'identità elettronica. Il nuovo documento è dotato di un microprocessore a radiofrequenza che protegge dal rischio di contraffazione i dati, la foto e le impronte digitali. Il servizio sarà disponibile da martedì prossimo. Dal 1 gennaio 2019 la carta d'identità elettronica sarà obbligatoria per circolare in tutta Europa. E sono anche iniziati i lavori di riposizionamento in asse delle armille del Ponte del Lovo su Rio San Salvador. In entrambe le arcate del ponte che collega il Teatro Goldoni al Campo San Salvador era infatti stato notato un cedimento di circa un centimetro. E' stato interdetto il passaggio alle imbarcazioni sia a quelle a remi che a quelle a motore. I lavori dureranno due settimane e poi però toccherà la manutenzione del ponte di San Moisés. Passiamo ancora alla cronaca. Alle 5 e 3 quarti di questa mattina è stata rapinata l'edicola di via Cappuccina Mestre, quella che si trova davanti alla palestra Dynamis. Il rapinatore si è presentato in orario di apertura da solo. Tutto è successo in pochi secondi, con i barvicini ancora chiusi. L'uomo indossava un cappuccio e aveva un coltello, questo quanto ha detto la titolare 58enne. Dall'accento poteva essere un nordafricano, è riuscito a portare via soltanto un pc portatile. E la gente, i residenti di quella zona, i commercianti non si sentono più sicuri a Mestre. Ogni giorno i comitati si battono per essere ascoltati, per denunciare quello che è ormai uno stato di degrado che non si riesce a controllare. E il comune cosa fa? Ebbene, il comune di Venezia fa scattare l'iter per l'assunzione di 40 nuovi agenti di polizia locale che si aggiungono ai precedenti 70 assunti nel 2017. Gli agenti dovrebbero pattugliare soprattutto le zone più calde della città la sera e la notte. Saranno assunti con un contratto di formazione e lavoro e inquadrati con un C1. In tutto 110 agenti oltre i 20 stagionali che opereranno in alta stagione, soprattutto nel centro storico a Venezia. Ordinate anche 13 nuove auto di servizio. Incidente invece oggi, poco prima delle 13, sulla provinciale 81, la camionabile tra Mirano e Crea ad essere coinvolto nell'incidente un camion che ha finito di traverso occupando quasi completamente la carreggiata. Traffico bloccato, considerato anche che si tratta di una strada ad alta percorrenza. Con il mezzo pesante è stato coinvolto nello scontro anche un'auto che stava uscendo dal distributore di benzina. Sul posto i carabinieri, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Ieri invece a Venezia, proprio a Venezia, un uomo è riuscito a guidare la sua auto proprio fino all'imbarcadero di Piazzale Roma. Non è la prima volta, ma queste vicende creano sempre un certo interesse. L'uomo, tra l'altro un mestrino, si è avventurato con l'auto fino all'imbarcadero al CTV a fianco del ponte di Calatrava. È passato sotto, scendendo dalla rampa delle ambulanze di fondamento a Santa Chiara. L'uomo ha detto ai vigili che era in cerca di un parcheggio. Un incidente sul lavoro ieri nel primo pomeriggio a perdere la vita è stato un operaio dell'azienda BFR di Cessalto con sede in zona industriale. Simone Nicolini aveva 40 anni e abitava alla salute di Livenza. Un improvviso malore mentre stava lavorando ad una pressa. Sarebbe caduto da un'altezza di pochi metri riportando un trauma cranico, ma le condizioni sono apparse, però subito gravi. I tecnici Spisale indagano sulla caduta, ma sembra che il decesso sia effettivamente da attribuire ad un infarto che non gli ha dato scampo. L'uomo ha lasciato una moglie e due figlie. Domani 12 gennaio alle 17 al Cinema Pio X di Piazza Galuppia Burano si terrà lo spettacolo teatrale Punto Burano Donne sul filo del merletto, a sostegno della candidatura di questa attività a patrimonio dell'UNESCO. Lo spettacolo si terrà anche in occasione della prossima apertura del punto vendita Cop di Burano prevista per il 18 gennaio. Coppa Alleanza 3.0 ha voluto sottolineare la vicinanza con la comunità locale, tra le figure femminili che racconteranno nello spettacolo le origini di quest'arte e le dure condizioni e lo sfruttamento del lavoro delle merlettaie pagate a Cottimo. E adesso invece passiamo alla pagina sportiva con il basket. È finito a favore dell'Umana Reier Venezia per 102 a 93 il match contro i Polacchi del Rosa Radom. Questo è il quarto successo consecutivo tra campionato e Coppa. Grazie a questa vittoria la Reier ha in testa il girone C con le Studiantes a quota 16. Seguono Banvit, Bayreuth e Strasburgo a quota 15. In campionato domenica 14 gli Orogranata affronteranno al Mediolanum Foro di Assago l'Emporio Armani Milano. Certamente il pubblico ci ha dato una grande mano perché come al solito quando poi vede la squadra che si dà, che si butta, che si sacrifica è sempre pronto a aiutarci e vedere tanti giovani è uno dei nostri obiettivi a livello di club e credo che sia un obiettivo raggiunto. E invece passiamo al calcio con Venezia. Un nuovo arrivo, arriva l'attaccante Marco Firenze in prestito dal cottone fino a fine giugno. Classe 1993 nella stagione in corso era in prestito alla Pro Vercelli. 17 presenze, 5 reti in campionato più una in Coppa Italia. I Leoni Veneziani affronteranno il 20 gennaio la trasferta contro la Salernitana e arrivo di Marco Firenze e partenza di Stefano Moreo. L'attaccante giocherà adesso a Palermo. Questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio adesso in compagnia del nostro direttore Massimo Righetto per l'edizione di Padova e vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.